vetrate scorrevoli a scomparsa. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi e di abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi ti voglio parlare del più bello degli scorrevoli quindi gli scorrevoli le vetrate scorrevoli a scomparsa e per vetrate scorrere scomparsa intendo delle vetrate già di grandi dimensioni perché è una vetrata scorrevole nasce per questo motivo che vanno praticamente completamente sparire scorrendo all'interno del muro. Cioè questo ti consente di avere una vetrata intera senza nessun montante e senza nessun traverso ti consente una volta aperta di creare un varco come se non ci fosse neanche l'infisso e di ottenere la massima luminosità e la massima bellezza di questo tipo di aperture. Per realizzare queste vetrate scorrevole scomparsa occorrono delle predisposizioni molto su misura e molto accurate perché i problemi di infiltrazioni e di ponti termici sono molto frequenti. Sì perché è una vetrata molto difficile se l'installatore se il seramentista possibilmente quello che ha prodotto la vetrata non è molto diciamo così formato su questo tipo di seramento potrebbe dare dei problemi anche molto seri. Tra l'altro essendo vetrate così di design e così di grandi dimensioni sono vetrate che hanno anche un costo notevole. Quindi ti consiglio di affidarti ad un esperto e ti consiglio anche eventualmente di poter fare una consulenza e proprio per questo ho inventato la consulenza con Sistema Bisacchi della quale puoi trovare informazioni su www.blogbisacchi.it. Ti potrò aiutare senza conflitto di interessi perché io lavoro qui nelle province qui attorno a Gambetta quindi fuori Cesena, Rimini e Ravenna non posso raggiungere tutta Italia ma posso aiutare tutte quelle persone che magari vogliono creare delle vetrate di questo tipo e vogliono essere sicuri che il lavoro venga eseguito come si deve. Ciao e al prossimo video! Ciao!